Siamo a Roma per un brindisi natalizio DOP. Cominciamo a parlare di queste eccellenze tipicamente italiane e cominciamo con il formaggio Gorgonzola che ha un suo consorzio di tutela. Raccontiamo quando nasce. Nel 1970 nasce il consorzio per tutela del formaggio Gorgonzola. Allora si erano unite le aziende produttrici, le aziende stagionatrici e da allora sono stati fatti enormi passi fino a raggiungere oggi una quota di mercato che lo rappresenta come il terzo formaggio a produzione di latte vaccino DOP. Un formaggio molto conosciuto, conosciuto soprattutto nella parte nord dell'Italia ma che sta conquistando fette di mercato sempre più importanti. Possiamo descrivere qual è la zona di produzione, i produttori chi sono, quale profilo hanno? Allora la zona di produzione rappresenta le due regioni italiane, Piemonte e Lombardia, con 10 province in Lombardia e 5 province in Piemonte più il territorio di Casale Monferrato. Come divulgazione sul territorio nazionale, nell'area nord-ovest per cui Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta rappresenta il 60% della commercializzazione. Nel nord-est, per cui Veneto, Friulenza Giulia, eccetera, un 20% e l'altro 20% è distribuito tra il centro e il sud Italia. Comunque grazie alla grande distribuzione che è comunque presente capillarmente sul territorio nazionale, anche verso i posti più remoti del sud Italia sta raggiungendo la sua notorietà. Le aziende sono suddivise, oggi sono 38 aziende, suddivise tra produttori e stagionatori. Prevalentemente circa il 60% della produzione viene fatta nella provincia di Novara, che raggruppa un po' più l'area eccentrica della produzione stagionatura del prodotto. Come produzione quest'anno chiuderemo intorno ai 4.400.000 forme più o meno, per cui raggiungeremo il record di produzione con un 5% circa in più della produzione nel 2013. E come volumi di esportazione raggiungeremo anche il 32%, che è un dato importantissimo per questo prodotto. Questi sono i dati importanti che interessano naturalmente la popolazione, ma anche i produttori. Invece parliamo proprio dal punto di vista del consumatore. Questo è un formaggio che quali caratteristiche nutrizionali ha? Anche attraverso la campagna che stiamo facendo a livello nazionale, il formaggio rogonzola ha un'ottima digeribilità, rappresentata dalle sue presenze di muffe, che è del penicillium, contiene vitamine, vitamine A, vitamine B e soprattutto ha fosforo e calcio, che sono importanti per quanto riguarda uno stile di vita sano e regolare. Inoltre è indicato per i ciliaci, perché è un prodotto senza glutine, è anche rappresentato nell'associazione dei ciliaci italiani, ed è un prodotto che per la sua stagionatura e fermentazione arriva a fine periodo che è anche senza lattosio, per cui anche gli intolleranti ai lattosio possono mangiare formaggio e gorgonzola.